Un viaggio nella qualità e nel benessere. Che cosa raccontiamo stasera? Io sono delegato dal sindaco di Acqualagna come ex sindaco a raccontare la nostra che esiste, l'esperienza di Acqualagna e quello che Acqualagna è riuscito a dare alle marche e ricevere dalle marche. Quindi noi siamo molto contenti di essere qui in questo posto, di partecipare a iniziative promozionali della Regione e con il nostro prodotto, il tartufo, che è l'eccellenza delle eccellenze gastronomiche. Insomma, è un grande prodotto che fa da traino a tante altre produzioni enogastronomiche marchigiane. Quindi siamo qui a raccontare la nostra storia di successo, quindi a coinvolgere tutti quelli che possono essere coinvolti nel nostro percorso e quindi a farli venire nelle marche, a farli incontrare con il nostro bel territorio e con i nostri bei prodotti. Grazie a tutti.